Buongiorno, come ti chiami? Esposito Alessandro, vengo da Roma e gioco nell'Astrea Magari vi chiamo 6, io ho 47 Stavo quasi vicino Ma te, come si chiama il preparatore del bottiglie del chiusi? Vabbè, vai, vai, vai Vai, si, come dice lui, non sto cerendo Esatto Non lo conosce nessuno Non lo conosce nessuno, questo è incredibile Forza Bravo, ti può fare una bella parata Ma è questo? Ma la coppia Buongiorno Bravo, forza, forza Vai, vai Oh, grazie sto parlando Super Su Su, 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 bravo, dai, Fogito Quanto ricamano il paraleo di Fogito? Passa Passa, vai Vincisci in bellezza Grazie a tutti Grazie a tutti.